10 febbraio Santa Scolastica Vergine Il nome di Scolastica, sorella di Benedetto da Norcia, richiama al femminile gli inizi del monachesimo occidentale, fondato sulla stabilità della vita in comune. Benedetto invita a servire Dio non già fuggendo dal mondo verso la solitudine o la penitenza itinerante, ma vivendo in comunità a durature organizzate, e dividendo rigorosamente il proprio tempo fra preghiera, lavoro o studio e riposo. Da giovanissima, Scolastica si è consacrata al Signore col voto di castità. Più tardi, quando già Benedetto vive a Monte Cassino con i suoi monaci, in un altro monastero della zona lei fa vita comune con un gruppetto di donne consacrate. La Chiesa ricorda Scolastica come santa, ma di lei sappiamo ben poco. L'unico testo quasi contemporaneo che ne parla è il secondo libro dei Dialoghi di Papa Gregorio Magno, 590, 604. Ma i dialoghi sono soprattutto composizioni esortative, edificanti, che propongono esempi di santità a limitazione dei fedeli mirando ad appassionare e a commuovere, senza ricercare il dato esatto e la sicura referenza storica. Inoltre, Gregorio parla di lei solo in riferimento a Benedetto, solo all'ombra del grande fratello, padri del monachesimo occidentale. Ecco la pagina in cui li troviamo insieme. Tra loro è stato convenuto di incontrarsi solo una volta all'anno. E Gregorio ce li mostra appunto nella quaresima, forse, del 542, fuori dai rispettivi monasteri, in una casetta sotto Monte Cassino. Un colloquio che non finirebbe più, su tante cose del cielo e anche della terra. L'Italia del tempo è una preda contesa tra i bizantini del generale Belisario e i goti della retotila, devastata dagli uni e dagli altri. Roma si è arresa ai goti per fame dopo due anni di assedio, in Italia centrale gli affamati masticano erbe e radici. A Monte Cassino passano vincitori e vinti. Passa totila a tratto dalla fama di Benedetto, e passano le vittime della violenza, i portatori di tutte le disperazioni, gli assetati di speranza, viene l'ora di separarsi. Scolastica vorrebbe prolungare il colloquio, ma Benedetto rifiuta. La regola non si infrange, ciascuno torni a casa sua. All'ora scolastica si raccoglie intensamente in preghiera, ed ecco scoppiare un temporale violentissimo che blocca tutti nella casetta. Così il colloquio può continuare per un po' ancora. Infine, fratello e sorella con i loro accompagnatori e accompagnatrici si separano. E questo sarà il loro ultimo incontro. Tre giorni dopo, leggiamo nei dialoghi, Benedetto apprende la morte della sorella vedendo la sua anima salire verso l'alto in forma di colomba. I monaci scendono allora a prendere il suo corpo, dandogli sepoltura nella tomba che Benedetto ha fatto preparare per sé a Monte Cassino. E dove sarà deposto anche lui, morto in piedi sorretto dai suoi monaci, intorno all'anno 547.